A qualsiasi livello uno sia nella vita, c'è sempre da imparare e forse bisogna mettersi ogni tanto in discussione e non pensare di essere depositari del mondo e del sapere. Le persone che hanno pensato di sapere tutto, hanno fatto una brutta fine. Vorrei solo farti capire e far capire anche a quelli a casa che a volte quando si giudica un conto è dire un'opinione, un conto è dare una sentenza, un giudizio e che siamo persone e quindi anche l'oggettività diventa soggettività.